Allora, buongiorno a tutti, siete pronti? Io sono Andrea Antoniella e sono un cittadino del mondo, perché sono un artista di strada. Sono qui ora ad Amatrice per un sentimento grande che ho sentito ieri, e cioè quello di venire qui dai tanti bambini, che per fortuna ancora ci sono, che vogliono avere un momento di leggerezza attraverso la nostra professione, che è quella del clown. Aspetta perché mi metto un attimo comodo, perché... Oh, è ferma eh! Oggi ho avuto un incontro con diversi bambini e loro mi hanno regalato a me dei bellissimi momenti, perché con la loro purezza e la loro profondità, dei sguardi e soprattutto dei sorrisi, mi hanno regalato una speranza in più. Oggi è tutto! Grazie a tutti. Grazie a tutti.